Nella squadra è composta da giocatori bravi, soprattutto nel reparto offensivo sia chi gioca sia le alternative sono di alto livello. Vengono a risultato negativo e quindi avranno voglia di riparsa e lo stesso possiamo dire per noi. Quindi sarà una partita impegnativa, molto come lo sono tutte in questo campionato e noi cercheremo di farla al massimo perché vogliamo aggiungere mattoncini al nostro bellissimo campionato che stiamo facendo. Abbiamo tante immagini di miglioramento ma abbiamo fatto tantissime cose belle perché siamo ambiziosi quindi vogliamo sempre di più, vogliamo sempre fare meglio però non dobbiamo mai dimenticarci tante cose dell'inizio del campionato, non dobbiamo dimenticarci quanto è complicato questo campionato e che tipo di partite sono state fatte. Quindi partiamo da un'ottima base, abbiamo fatto tanti punti, li abbiamo fatti con coraggio, li abbiamo fatti andandoceli a cercare, raramente abbiamo preso qualcosa che non ci spettava, qualche volta è capitato il contrario. Fermo restando questo ovviamente abbiamo dei margini grandi perché comunque è un gruppo composto da degli anziani o ragazzi più grandi che stanno sostenendo benissimo tutta la squadra e anche tanti ragazzi giovani che ovviamente hanno dei margini di miglioramento impressionanti. Sicuramente è strano perché comunque anche quando vedi i dati siamo una squadra che tira tantissimo, siamo una squadra che sta tantissimo nell'area dei rigori degli avversari e siamo una squadra che non ha ricevuto nessun calcio di rigore. Io mi piace avere, conosco tutti gli arbitri quindi credo nella buona fede sicuramente, li rispetto sempre e so che è un lavoro anche in loro molto complicato. Partendo da questo antefatto ovviamente c'è da dire che domenica il rigore c'era a meno che non sia stato considerato il movimento del corpo del giocatore congruo ed è un peccato, ce n'era un altro a Benevento è un peccato, dispiace perché comunque per me lo step grande da fare è che quando si prende una decisione parlandosi via VAR con i ragazzi che sono fuori va motivata perché comunque sentirsi dire il perché ti aiuta a capire meglio la scelta e può darsi la volta successiva a protestare meno o a innervosirsi meno perché sicuramente non è quello che voglio poi non parlo in generale però sono io perché mi piace mantenere sempre grandissimo rispetto per il lavoro degli altri e l'ho sempre fatto e lo continuerò a fare.